Buongiorno a tutti, sono davvero felice di potervi dare il benvenuto nome di TTS Italia oggi qui all'auditorium della città di Roma. Devo riprendere il fiato perché il sindaco ha fatto le scale così velocemente che io ho fatto un po' fatica a stargli dietro, ma questo non mi impedisce di dire che questa sede così importante, prestigiosa, iconica di questa città ci ospiterà oggi e domani per il convegno di TTS Italia, tutto dedicato al MAS e che innanzitutto vorrei ringraziare ovviamente Roma Capitale, il sindaco e l'assessore Padane che hanno voluto proprio organizzare questo convegno e ci hanno supportato effettivamente. Quindi un goccio di acqua scusatemi. Diciamo che un anno fa ci siamo trovati a luglio dell'anno scorso e abbiamo presentato le linee guida che TTS Italia ha elaborato sulla Mobility as a Service ed è stato annunciata l'iniziativa del progetto nazionale dedicato al MAS, MAS for Italy. Oggi siamo qui quindi per fare il punto della situazione, l'iniziativa è stata avviata ed è entrata veramente nel vivo ormai e abbiamo quindi modo di ringraziare tutti gli stakeholder che hanno creduto che valesse la pena di perseguire questa opportunità. In primis direi i ministeri competenti quindi il ministero delle infrastrutture della mobilità sostenibili e il ministero per l'innovazione e la transizione digitale che hanno creduto in questa opportunità e hanno voluto cogliere l'opportunità del PNRR per varare un progetto di respiro nazionale tutto dedicato al MAS. Quindi davvero grazie a tutti il MAS è un concetto inclusivo, è un lavoro di gruppo e quindi a questo punto fate queste considerazioni e con grande onore che lascio la parola al sindaco Gualtieri della città di Roma per il suo benvenuto. Grazie davvero, buongiorno, per me è un grandissimo piacere rivolgere il mio saluto, i miei auguri di buon lavoro a TTS Italia, alla sua presidente Rossella Panero, a tutti voi. Ringrazio naturalmente Eugenio Patanè per non solo il suo impegno sul MAS che è noto a tutti ma anche per aver voluto insomma supportare e aiutare questa importante iniziativa di oggi che per noi è davvero di grande rilievo perché ci consente di collocare il lavoro che stiamo facendo dentro una riflessione più ampia di livello nazionale che riguarda quella che per noi e per il Paese, perché questa è una delle linee portanti del PNRR, rappresenta un asse strategico in cui si incrociano le dimensioni dell'innovazione, della digitalizzazione, della sostenibilità, della mobilità sostenibile e mi permetto di dire anche dell'inclusione perché costruire un trasporto pubblico, una politica della mobilità e dell'accessibilità adeguata alle sfide del nostro tempo è anche un elemento che consente di includere, ridurre le distanze e aiutare in primo luogo chi è più fragile e più debole e noi abbiamo sposato questa impostazione del MAS fin dall'inizio, è stata una grazia devo dire a Eugenio che è davvero un tifoso del MAS della prima ora, ecco, l'abbiamo voluta collocare nella nostra progetto, nella nostra visione di rivoluzione della mobilità a Roma, l'abbiamo incardinata, abbiamo partecipato al bando del PNRR, l'abbiamo vinto e stiamo attivamente lavorando con Roma Servizi della Mobilità, con il Dipartimento, con TAC e con tutti gli altri attori per cercare di, diciamo così, di non farne un ennesima, diciamo così, tentativo di introduzione di tecnologie digitali nella gestione del trasporto così com'è, ma di farne una leva in cui la digitalizzazione è la trasformazione delle politiche della mobilità e da questo punto di vista la sfida, la visione e la prospettiva che voi ponete di collocare, di avere una visione nazionale del MAS, cioè di un MAS for Italy, in cui naturalmente ciascun, innanzitutto ciascuna città, ciascuna amministrazione deve fare la sua parte, innanzitutto per realizzarlo entro il proprio perimetro, ma riuscirà a farlo, questa è una sfida appassionante, in modo tanto più capillare ed efficace quanto più questo sarà un sistema che ha una visione, un orizzonte nazionale, d'altronde Roma lo ha rilevato anche una recente ricerca della Camera di Commercio, non è solamente la città più popolosa e più estesa del paese, ma è anche la città in cui maggior numero sono le persone, non di Roma, che entrano ed escono quotidianamente e quindi se c'è una città, non solo per il suo essere la capitale, ma proprio per il suo essere anche un polo, diciamo così, di un'area più larga, che non è solo neanche il Lazio, che non è solo neanche l'Italia centrale, ma che davvero nella nostra visione sta nell'Italia e sta anche nell'Europa e nel Mediterraneo, è proprio Roma e quindi se c'è una città che condivide la sfida sicuramente complessa di non limitarsi al compito già non banale di organizzare il mass operator, il mass integrator e diciamo così chi gestisce il servizio del comune e gli altri operatori e che la costruzione dei percorsi e la diciamo coerenza tra questa tecnologia e una visione, ma addirittura di collocarlo in una integrazione nazionale, questo è una sfida diciamo complessa, ma penso che sia il modo giusto per farlo e quella che noi abbiamo cercato di percorrere. Ora noi abbiamo avuto modo di approfondire, anche di esporre le linee del nostro lavoro e Eugenio Patanè avrà modo di farlo in modo più dettagliato, quindi come dire vi risparmio in modo analitico una carrellata del modo in cui il nostro progetto MAS è stato finanziato e che poi con atti di giunta abbiamo articolato, abbiamo definito diciamo così uno schema di divisione del lavoro al nostro interno non è solo appunto la grande sfida dell'interoperabilità, la sfida di consentire al cittadino di scegliere il proprio percorso, di combinare mezzi diversi, di avere un unico punto di accesso, un'unica soluzione tariffaria e di poter combinare la share mobility, il ferro, la gomma e di poter scegliere ipotesi diverse, di poter anche avere come dire la possibilità di verificare l'impatto ambientale delle proprie scelte e noi questa cosa la facciamo naturalmente dentro una visione in cui la sfida dell'accessibilità è uno dei tratti distintivi della Roma che vorremmo e noi la prendiamo non solo dal lato del miglioramento della quantità e della qualità e della agilità e dell'interoperabilità della gestione dei trasporti e del modo di utilizzarli ma anche dal punto di vista di ripensamento del modo in cui la città stessa è organizzata e lavora, per noi la città dei 15 minuti è anche questo, non è solo far muovere meglio le persone ma far andare le cose più vicine alle persone, i servizi, le politiche di prossimità e quindi da una parte ridurre diciamo così anche le esigenze di spostamento, dall'altra parte rafforzare l'accessibilità ovunque con le grandi infrastrutture del ferro che vogliamo rilanciare, con i corridoi della mobilità e anche con le politiche di disincentivo all'abuso dell'auto e su questo abbiamo, come su altri ambiti di policy, abbiamo deciso che il tempo per prendere queste scelte non è dopo ma è oggi e quindi abbiamo in modo trasparente comunicato alla città cosa noi faremo con la VAM ZTL, con la fascia verde, con la low emission zone, con la ZTL perché anche parte integrante delle politiche di mobilità è anche, io non amo definirlo appunto le politiche aggressive di riduzione dell'auto ma in realtà politiche che superano una situazione in cui oggi c'è di fatto un abuso e un sussidio a un uso eccessivo dell'auto e quindi un riequilibrio un riequilibrio che deve vedere dall'altra parte però se si fa una congestion, una pollution charge se si fa una low emission zone seria e tecnologicamente governata con gli accessi e i varchi che stiamo realizzando chiaramente dall'altra parte questo impone di offrire non lo stesso perché oggi è l'illusione con la macchina di poter essere flessibili e on the spot di andare dove si vuole in qualsiasi momento perché poi c'è il traffico, poi non c'è il parcheggio e quindi è diciamo una flessibilità virtuale ecco noi quella flessibilità, quel autogoverno, quella libertà chiamiamola così noi la vogliamo offrire con un trasporto pubblico che per questo non deve solamente avere l'hardware delle metropolitane, dei tram, degli auto, delle cose ma deve avere non solo il software ma l'organizzazione intelligente che solo Mass può dargli e che consente appunto quella rivoluzione copernicana nelle impostazioni delle politiche dell'accessibilità che mette al centro il cittadino il suo diritto come dire sacro alla accessibilità e alla mobilità e costruisce e riforma non solo le strutture non solo le trasmissioni dei dati ma la governance stessa e quindi le politiche della mobilità con un qualcosa che è molto più di un software in realtà ma è appunto e quindi tutto questo noi l'abbiamo capito e stiamo cercando di farlo ma vogliamo farlo dentro un dibattito con tutti i soggetti, con gli stakeholders che stanno costruendo questo progetto Mass e quindi avere davvero l'opportunità di avere a Roma questo convegno e di interloquire, interagire in modo analitico e approfondito come faranno come dire gli esponenti della policy dell'accessibilità di Roma Capitale che parleranno per noi è una grande opportunità quindi grazie ancora e buon lavoro. Buongiorno a tutti, è veramente con grande piacere che farei partire la prima sessione invito appunto qua sul palco i miei primi relatori, ossia i ministeri, i rappresentanti dei ministeri Matteo Antoniola, la premisa Ornero, però io vorrei, visto che approfitto la presenza del sindaco perché ci tengo anch'io sinceramente a fare qualche ringraziamento, lasciatemi qualche secondo cioè prima di tutto io veramente ci tengo a ringraziare la mia città perché per questo evento si è mostrato veramente ai massimi livelli io ho visto insomma anche l'atmosfera, il posto eccetera mi permetto di citare un'opera che è molto cara a tutti noi romani che è il Rugantino, Roma non fa la stupida stasera tante volte la fa signor sindaco la stupida un po' a Roma ma stavolta no cioè nel senso che veramente qui l'organizzazione di questo convegno si è mostrata veramente di una collaborazione incredibile e lasciatemi quindi ringraziare fortemente il sindaco Gualtieri che è qui l'assessore Patanè e la sua capo staff perché hanno dato un supporto incredibile al primo o secondo all'organizzazione di questo convegno e poi lasciatemi non per ultima perché last but the least come dicono gli inglesi ringraziare i miei amici fraterni di un nuovo servizio per la mobilità ossia la presidente Anna Donati e l'ingegnere Luca Varello che sono qui in platea perché veramente senza di loro non avremmo potuto fare niente quindi grazie, siete stati veramente preziosi in questa folla avventura grazie tanto allora detto questo io passerei subito la parola, aprirei la prima sezione che è l'inquadramento del MAS e del progetto MAS for Italy quindi ho veramente il piacere qua di avere i rappresentanti dei due ministeri che hanno promosso MAS for Italy ossia il ministero dell'infrastruttura e della comunità sostenibile e il ministero dell'innovazione digitale e Mattia Antoniola e Fabrizio Ornero comincio subito a dare la parola a Mattia Antoniola che rappresenta, tanto sono il coordinatore del gruppo di lavoro di TTSL sul MAS quindi rappresenta noi praticamente e poi è rappresentata la MAS Alliance che è l'iniziativa europea sul MAS che raccoglie sia diciamo città che stakeholder, che aziende eccetera che a livello europeo discuto sul MAS quindi Matteo a te la parola mi raccomando, rispetto dei tempi perché se lo tolgo la parola eccoci, sì buongiorno a tutti voi MAS lovers come ci chiamiamo spesso sui social, su LinkedIn come mi piace utilizzare questa formula per definirci bene, oggi proverò a raccontarvi cosa è successo nell'ultimo anno un anno fa eravamo qui, non qui ma a Roma a raccontare le linee guida di TTS Italia del gruppo di lavoro sul MAS in questo anno ne sono successe molte di cose abbiamo fatto molti molti passi avanti ci viene da chiederci dove siamo vorrei partire con questa breve relazione nel inquadrare dove siamo oggi nel mondo MAS nel mondo italiano lo vedremo tra poco col progetto MAS for Italy con iniziative locali delle tre città leader avremo una due giorni dedicata a dove siamo noi in Italia ma dove siamo noi nel mondo? questa è la domanda che dobbiamo porci qualcuno ha riconosciuto forse Life Cycle Life Cycle di Gartner che identifica l'andamento delle tecnologie emergenti ebbene, per quanto riguarda le smart mobility nel 2020 vedete dove posizionavano il MAS due anni fa, appena inizio pandemia a metà della discesa tra il picco della citazione e alla disillusione vediamo dopo due anni dove siamo proviamo a indovinarlo allora qua ci aiutiamo con questo grafico che fa vedere i punti importanti che contraddistinguono l'andamento dell'evoluzione di una nuova tecnologia una soluzione emergente come può essere il MAS con questa animazione vediamo in blu i punti che sicuramente sono già stati raggiunti nel contesto dell'industria di riferimento eccitazione, mass media hype poi un po' di negative press poi qualche fornitore comincia a fallire Kitty in Finlandia per esempio però altri continuano a fare secondo e terzi round di finanziamento a questo punto però in rosso vediamo quello che non è ancora stato raggiunto non siamo ancora arrivati a il 5% della potenziale audience che ha utilizzato pienamente queste nuove soluzioni quindi siamo probabilmente tra l'ultimo punto blu e il primo punto rosso lì è dove siamo oggi tra pochi giorni probabilmente uscirà un report card del 2022 che ci darà maggiori informazioni ma noi oggi siamo lì pronti per iniziare la salita verso il plateau della produttività come dicevo prima ci saranno chi mi seguirà vi racconterà tutto o quasi sul contesto nazionale io oggi provo a portare qualche stimolo anche su quello che capita a livello internazionale nel panorama internazionale del MAS visto che ho la fortuna di coordinare un gruppo di lavoro della MAS Alliance e confrontarmi incontinentemente con gli altri leader degli altri gruppi di lavoro ho sotto occhio tutti quelli che sono i temi in agenda della MAS Alliance che è una public private partnership che raccoglie tutti i stakeholder industrie, agenzie e città che si interessano alla tematica MAS ebbene ci sono molti temi ne ho scelti cinque per darvi qualche idea di quali sono i temi su cui stiamo lavorando in questi mesi primo incentivi alla domanda il tema grande è come possiamo fare in modo che diamo dei micro subsidy a chi si sposta con mezzi con scelte più consapevoli più sostenibili bene questo è uno dei grandi temi è probabilmente uno dei grandi driver che favoriranno l'adozione delle prime soluzioni MAS realmente funzionanti e favorirà il raggiungimento di una massa critica di 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 adozione però per fare questo come? c'è bisogno di grande innovazione organizzativa di consapevolezza su questo voglio sfatare un mito perché spesso mi capita in webinar parlo spesso in webinar faccio anche ultimamente qualche momento di formazione spesso discutiamo di di questo tema non è vero o meglio non è necessariamente vero che per offrire degli incentivi a un utente si debba avere una soluzione MAS pubblica la soluzione MAS può essere offerta anche dal mercato ma sotto opportune condizioni di governo è possibile usarla come strumento per erogare incentivi comunque senza necessariamente avere un MAS di tipo pubblico quindi questa è una dicotomia che bisogna tenere in mente su cui se avete piacere ci possiamo confrontare in altre sedi con molto 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 tempo per approfondire secondo tema centralità dell'utente ovvio gli user centeristi tutti dicono ma cosa voglio dire io con questo voglio dire non dobbiamo pensare a servizi MAS che indirizzino solo alcuni specifici target di utenti ma dobbiamo indirizzarli tutti perché se noi rischiamo di avere una visione parziale di quella che può essere la portata enorme della trasformazione MAS rischiamo di indirizzare solo una parte degli utenti e quindi di raggiungere solo una parte dei possibili benefici quindi attenzione alla pluralità dei servizi alla pluralità delle offerte perché i target di utenti che si spostano sono molto diversi e bisogna indirizzarli tutti se noi offriamo solo tra virgolette solo un servizio MAS a un utente del trasporto pubblico è una cosa molto bella avrà una semplificazione ma non sposteremo complessivamente la fruizione della mobilità sul territorio quindi attenzione a non guardare solo a certi target ma a guardarli tutti se li guardiamo tutti se raggiungiamo massa critica otteniamo possiamo ottenere benefici in termini di sostenibilità in particolare ambientale quindi minore veicoli chilometro viaggiati in auto magari da soli e più veicoli chilometro viaggiati con modi di trasporto più sostenibile e quindi una riduzione dell'impatto ambientale nella MAS stiamo studiando come misurare in uno scenario di lungo termine quali possono essere i benefici ambientali determinati dall'adozione del MAS ultimo sostenibilità non è solo ambientale ma è anche economica oltre che sociale quella economica si raggiunge attraverso quello che si chiama fair level playing field altro grande tema come facciamo ad avere un campo di gioco livellato in cui tutti hanno le stesse regole bene ci vuole un mercato aperto ci vuole la regolamentazione siccome la mobilità è un fenomeno molto strano perché è una griglia unisce grandi nodi e li collega quindi c'è la mobilità locale c'è la mobilità che unisce i grandi nodi ci vuole una regolamentazione comunitaria ci vuole una regolamentazione nazionale e ci vogliono regolamentazioni locali tutte queste devono parlarsi devono essere coerenti e complementari le une con le altre solo così possiamo raggiungere i benefici di cui sopra avere un mercato veramente favorevole per il mass ultimo grande domanda non c'è un punto interattivo lo aggiungo io col dito i modelli di business sarà sicuramente un tema che verrà discusso nei prossimi interventi come fare come sostenere i servizi mass c'è veramente un mercato per i servizi mass per rispondere a questa domanda mi avvio alla terza e ultima parte del mio intervento con questa grafica dietro a ogni box c'è un servizio mass europeo ho scelto di fare una panoramica di nove servizi mass completamente scelti per la mia conoscenza volutamente al di fuori dell'Italia e vediamo chi c'è dietro ciascuno e poi vi dirò perché benissimo dietro a questa prima ricona c'è Yelby chi non conosce Yelby che è il mass che c'è a Berlino lanciato nel 2019 che ha già parecchi utenti un risultato pubblico taxi e tanta micromobilità ebbene è una reference nel contesto internazionale vediamo dietro a seconda c'è City Mapper City Mapper ha lanciato credo ormai nel 2018 il super duper pass a Londra quindi un pass per cui tu puoi avere con 40 pound in una settimana tutto il TPL tutte le bici e in più 10 pound per servizi taxi e micromobilità da spendere chi non conosce WIM non spende tante parole Mass Global il primo nel 2016 è il Sink che adesso va avanti in tante altre città piano piano si sta diffondendo ma andiamo avanti su cose un po' meno scontate You Move You Move in Mass che c'è in Svizzera Svizzera specialmente la Svizzera tedesca che coniuga i treni con il trasporto pubblico locale e la micromobilità in tre città Berna Zurigo e Basilea Skipper non so chi lo conosce è un Mass che funziona in Francia e Belgio è un Mass per le aziende quindi un servizio di Mass per la mobilità aziendale corporate la peculiarità qual è? che ha un'app integra alcuni servizi nell'app altri li integra attraverso una carta di pagamento circuito Mastercard quindi non è una piena integrazione digitale nell'app ma in parte digitale nell'app e in parte attraverso una carta di pagamento molto particolare andiamo al sesto Arval Arval offre soluzioni Mass per le aziende per coniugare la propria offerta di flotte per le aziende e quindi offre servizi di novità con un'app dedicata ai dipendenti delle aziende per avere più alternative Olanda Francia e Germania FreeNow chi non conosce FreeNow attivo in una centinaia di città in Europa la maggior parte sono in Germania offre ovviamente il taxi offre ovviamente il carcere di Chernow e alcuni servizi di micromobilità andiamo verso gli ultimi due Uber perché ve lo racconto una piattaforma di ride hailing ma Uber ha annunciato che dall'estate in UK sarà possibile oltre nell'app di ride hailing acquistare aerei treni e autobus a lunga percorrenza quindi voglio fare la super app che hanno annunciato non è ancora online ma tra poco arriverà e l'ultimo Monapass anche io questo l'ho scoperto recentemente nel 2021 sono lanciato a Monaco principale di Monaco un servizio mass che oggi ha soltanto tre servizi ha il trasporto pubblico il bike sharing e la sosta ma che sta integrando integrerà integrerà anche molti servizi a trazioni perché vi faccio vedere 10 secondi per dirvi il messaggio finale tutti questi nove servizi mass sono offerti da operatori differenti un operatore di trasporto pubblico Yelby un operatore di diffumibilità un operatore digitale WIM un operatore di gestione flotte una fintech skipper un operatore di treni SBB in Svizzera Freenow che viene dal mondo di taxi Uber Wild Hailing Monapass la città il principato di Monaco tutti questi sono diversi quindi il ruolo di operatore mass può essere svolto da operatori diversi completamente diversi attenzione al fatto che l'operatore mass oggi e domani sarà un operatore molto diverso potrà essere chiunque potrà essere l'operatore mass suoneranno delle musiche diverse e per chiudere un'orchestra perché perché l'orchestra del mass siete voi e siamo noi siamo noi che dobbiamo suonare i nostri spartiti ma con l'obiettivo fare in modo che la nostra musica arrivi a tutti i cittadini che sono là fuori perché solo così potremo cambiare le loro abitudini vi ringrazio buon lavoro e buon mass a tutti grazie grazie Matteo anche per darci questi stimoli di qual è il panorama internazionale che questo è molto importante e lo presente allora adesso io comincio a passare subito la parola adesso che sta montando il microfono al rappresentante del dipartimento di un'azione digitale di DT Innovation Project Manager Dario Malerva Dario a te allora il progetto così ci parli bene il progetto Mass For Italy dai grazie allora innanzitutto vorrei ringraziare TTS Italia per l'organizzazione di questo convegno è sempre un piacere vedere una sala così grande così piena di persone interessate agli aggiornamenti e all'evoluzione del Mobility and Service in Italia vorrei grazie vorrei ringraziare anche il MIMS qui presente Giorgio Pizzi ma tutto il gruppo di lavoro del MIMS con il quale il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e ne approfitto per ringraziare anche i miei colleghi con i quali lavoriamo veramente 24-7 per il raggiungimento di questi obiettivi abbiamo creato una squadra veramente coesa fatta di un mix di esperienza di dominio soprattutto l'automobilità e trasporti del MIMS e profili magari più giovani e soprattutto operativi motivati e con una ampia conoscenza del mondo digitale da parte del Dipartimento in questi dieci minuti cercherò di concentrare una panoramica dell'iniziativa durante la quale vi darò anche una notizia una novità in anteprima ovvero il nome delle nuove tre città che sono state selezionate come città pilota per i servizi masse pubblicata proprio questa mattina alla graduatoria provvisoria vi racconterò quali sono i prossimi passi che aspettano le tre città pilota e alla fine concluderò con gli elementi chiave delle sperimentazioni ovvero che cosa ci aspettiamo che effettivamente venga sperimentato o testato in questi territori dunque l'iniziativa ha un budget complessivo di 57 milioni di euro 40 milioni di euro dal PNRR quindi risorse dell'Unione Europea e 17 milioni stanziati attraverso il fondo complementare PNRR quindi risorse nazionali che possono essere allocate a iniziative sinergiche e quindi complementari al PNRR l'iniziativa prevede tre direttrici principali la prima è quella della sperimentazione di servizi masse all'interno di alcuni territori e città siamo partiti con l'identificazione di tre città pilota Milano Napoli Roma ad inizio 2022 una di queste tre città Milano è stata anche selezionata per essere la sede di un living lab sulla cooperative and connected mobility ovvero un laboratorio a cielo aperto dove testare in condizioni reali quella che sarà la mobilità del futuro anche in ottica mass quindi anche per cercare di sperimentare e prevedere quello che sarà il mass un domani in cui i veicoli saranno sempre più connessi e magari anche a guida autonoma successivamente spinti dal successo di questa prima tornata da questa prima iniziativa quindi dall'alta qualità dei progetti pervenuti i rispettivi ministri del MIMS e del MITL hanno deciso di stanziare 17 milioni dal fondo complementare per diciamo replicare il primo bando quindi andare a selezionare ulteriori tre città pilota che oggi quindi annunciamo sono Bari Firenze e Torino Torino è stata altresì selezionata per essere la sede del Living Lab sulla Cooperative and Connected Mobility quindi avremo due Living Lab e sei città pilota per il momento oltre a queste entro la fine dell'anno saranno selezionati ulteriori sette territori per andare a cercare di espandere anche la catena dei viaggi e questi territori potranno godere di tutto il supporto progettuale tecnico ma anche di governance da parte delle città che saranno passate prima attraverso le varie criticità che ci troveremo davanti in questo progetto seconda direttrice fondamentale di questa iniziativa è la realizzazione di un layer dati nazionale che fornisca strumenti tecnologici abilitanti agli operatori masse e agli operatori di trasporto questa struttura su cui non spenderò troppe parole che lascerò poi al collega l'ingegner Pizzi nell'intervento che seguirà prende il nome di DSNSSRF un nome abbastanza difficile da pronunciare che sta per Data Sharing e Service Repositori Facility fortemente integrato con l'INAP il National Access Point terza direttrice fondamentale è l'erogazione di una misura di sostegno finanziario rivolta agli operatori di trasporto locale per digitalizzare i propri sistemi e servizi ovviamente questa misura inserita all'interno degli avvisi pubblici per le tre città non è rivolta a quegli operatori di trasporto più innovativi più diciamo recenti come gli operatori in sharing che nascono già digitali ma a quegli operatori del trasporto pubblico locale che laddove in alcune circostanze magari presentano ancora obliteratrici meccaniche titoli di viaggio cartacei per forza di cose non si potrebbero integrare in un ecosistema mass digitale motivo per cui questa misura va proprio a cercare di fare un upgrade tecnologico di questi sistemi in modo che possano essere integrabili all'interno di un ecosistema mass infine le milestone ovvero i traguardi imposti dall'Unione Europea quelli per quanto riguarda il PNRR e invece nazionali per quanto riguarda il fondo complementare per le prime tre città pilota la milestone è molto sfidante entro Q4 2023 dovranno essere sperimentati nei rispettivi tre territori i servizi masse con un target minimo di mille utenti definito dell'Unione Europea un target ovviamente molto basso ma che le città stesse si sono auto innalzato per dare più significatività all'iniziativa le tre città selezionate quindi oggi dal fondo complementare godranno di un trimestre in più di tempo ma anche qui la scadenza è molto stringente quindi all'inizio 2024 dovranno anche loro aver sperimentato il redatto rapporto unico finale e infine i sette territori successivi invece avranno un periodo più lungo tempo fino all'inizio 2025 per poter anche loro raggiungere gli stessi obiettivi molto velocemente vi racconto quali sono i passaggi che abbiamo già fatto e quali sono le attività che aspettano le città pilota nei prossimi mesi le abbiamo selezionate a inizio 2022 nel frattempo abbiamo avviato la progettazione di questo layer dati di questo DSNSSRF siamo arrivati da alcune settimane alla stipula delle convenzioni con queste tre città pilota un percorso che è stato abbastanza complesso e lungo perché non era facile comunque allineare le iniziative le idee progettuali delle singole tre città con la visione che avevamo centralmente ovviamente erano presenti contesti territoriali diversi situazioni diverse tra di loro però qui vorrei ringraziare i referenti delle tre città con i quali abbiamo interlocuito in maniera massiva negli ultimi mesi perché l'interlocuzione è sempre stata secca decisa ma molto molto sana volta raggiungimento dei nostri obiettivi nel frattempo abbiamo terminato la fase di progettazione di questo layer dati abbiamo recentemente condiviso le prime specifiche di integrazione con il DSNSSRF in modo che queste città possano già avere alcuni elementi necessari ad esempio a definire i bandi per identificare i mass operator alcuni elementi proprio tecnici tecnologici per capire come funzionerà ci aspettiamo che entro la fine dell'anno queste tre città abbiano definito e chiuso tutti gli accordi con mass operator con operatori di trasporto in modo che a dicembre di quest'anno o al più tardi a gennaio del 2023 si potranno fare i primi test sull'integrazione in seguito a un primo rilascio di una prima versione beta del DSNSSRF nel frattempo ci aspettiamo che la misura di sostegno finanziario per digitalizzare il trasporto pubblico locale venga implementata che quindi questi mezzi queste flotte che magari oggi non sono ancora digitalizzate non possono integrarsi in un ecosistema mass siano pronte ad essere integrate avviare le sperimentazioni quindi entro il mese di aprile del 2023 tempi quindi molto molto stretti per avere un periodo di sperimentazione iniziale una cosiddetta fase 1 di almeno 6 mesi dopo i quali quindi diciamo intorno al mese di ottobre del 2023 le città dovranno redare il rapporto finale sulle sperimentazioni inviarlo ai ministeri centrali e poi noi a nostra volta le dovremmo rendicontare l'Unione Europea per dimostrare il rispetto delle milestone finita questa prima fase sperimentale il progetto non termina qui per queste tre città potranno continuare anche a spendere le risorse per supportare da un lato i sette territori successivamente identificati e dall'altro per dare continuità alle sperimentazioni e anche allargare la catena di viaggio oltre i confini cittadini ultima slide vi racconto molto brevemente quali sono gli elementi chiavi delle sperimentazioni cosa ci aspettiamo che venga sperimentato testato all'interno di queste città innanzitutto il DSNSSRF cioè questa struttura noi la stiamo costruendo in maniera incrementale secondo uno sviluppo agile condividendo i vari sviluppi con le città man mano che questa viene creata ma non siamo come dire convinti che sia la soluzione adeguata vogliamo capirlo insieme alle città vogliamo che queste le sperimentano e all'esito della sperimentazione ci dicano anche come eventualmente migliorarlo non solo gli aspetti tecnologici da sperimentare e valutare ma anche i vari impatti ambientale sociale economico ecco dal punto di vista economico sicuramente ci aspettiamo abbiamo spinto le città proprio a sperimentare diversi modelli di business sappiamo che il MAS apre le porte a diversi e nuovi modelli di business ecco vogliamo capire quali sono i modelli di business che meglio funzionano nei diversi contesti territoriali ci aspettiamo anche come accennava Matteo poco fa che vengano sperimentati anche venga sperimentato il contributo di incentivi per il raggiungimento anche di obiettivi sociali o comunque per capire quali sono gli incentivi non a pioggia che altererebbero il buon esito della sperimentazione ma incentivi mirati e vogliamo proprio capire quali sono quelli che meglio funzionano e meglio portano al raggiungimento dei nostri obiettivi sicuramente il nostro obiettivo centrale condiviso con le città è quello di supportare la libera scelta da parte poi del cittadino che potrà fare il proprio viaggio intermodale quindi stiamo cercando di spingere le città a coinvolgere quanti più operatori di trasporto e mobilità possibili e per far questo sarà ovviamente necessaria l'interoperabilità delle basi dati per avere diversi servizi mass erogati attraverso un unico canale digitale ovviamente vogliamo evitare situazioni di monopolio per tutelare la concorrenza nel mercato i ministeri centrali sono chiamati ovviamente ad agire secondo regole di equità e neutralità e anche il DSNSSRF nella sua funzione secondo il nostro avviso svolge una funzione proprio di evitare monopoli perché abbatte alcune barriere all'ingresso del mercato mass che permettono quindi una sua espansione e un suo convolgimento di diversi stakeholder non solo quelli più grandi ma anche più piccoli player chiudo con l'ultimo punto che in realtà è probabilmente il più importante ovvero supportare la collaborazione la cooperazione tra attori diversi e lo scambio dati tra tutti i vari attori dell'ecosistema mass come sappiamo esiste un regolamento europeo il regolamento 1926 del 2017 che prevede l'obbligatorietà dello scambio della condivisione dei dati statici ma non è solo attraverso gli dati statici che si potrà realizzare un ecosistema mass compiuto ma sicuramente ci sarà bisogno anche di quelli dinamici in real time io vi ringrazio a tutti in quest'ultima slide vi lascio i contatti e il link alla pagina web del Mass4Italy dove potrete trovare al loro interno anche due documenti principali di riferimento in questo momento ovvero gli indirizzi per l'attuazione del progetto Mass4Italy e un discussion paper contenente alcuni requisiti utenti sul DSSRF grazie a tutti grazie a tutti quindi Giorgio vai a te il floor buongiorno a tutti la direzione generale per il trasporto pubblico locale del MIMS in questo periodo è fortemente impegnata per funzione istituzionale nello sviluppo del sistema della mobilità e del trasporto pubblico a partire dallo sviluppo del sistema ferroviario regionale trasporto rapido di massa mobility management integrazione dei piani urbani della mobilità sostenibile ma soprattutto digitalizzazione nel TPL come strumento come leva del digitale per incrementare l'integrazione e la qualità del servizio ora io ringrazio innanzitutto TTS Italia per avermi invitato a parlare in questo incontro e faccio i complimenti all'organizzazione per la scaletta perché in questa prima parte in questa sessione è un crescendo di approfondimenti sempre più focalizzati sull'oggetto del progetto Mass for Italy Matteo Antoniola ha inquadrato il Mass nella sua generalità facendo vedere anche delle esperienze europee e dandole delle chiavi interpretative interessanti Dario Malerba ha inquadrato in generale il progetto Mass for Italy e ha anticipato un componente fondamentale che ha un nome abbastanza criptico come potete riconoscere un acronimo impronunciabile DSS&RF che sta per Data Sharing and Service Repository Facility allora il mio compito è quello di svelare che cosa c'è dietro questo acronimo e di darne una chiave di lettura che vorrà migliorare la conoscenza di tutti quelli che lo hanno potuto vedere nei suoi aspetti tecnici in maniera da poterne comprendere l'importanza ecco forse tradurre l'acronimo nella nostra lingua già aiuta molto io vengo dal Ministero delle Infrastrutture però per cui parlare di facility in termini di infrastruttura mi viene molto facile e quindi andare a fare una traduzione letterale dell'acronimo anglosassone porta a questa definizione è un'infrastruttura per la condivisione dei dati e per la raccolta e l'esposizione dei servizi vedremo poi che cosa significa in particolare raccolta ed esposizione dei servizi ma sottolineo che il significato di infrastruttura almeno per come lo declina il dizionario Treccani a cui mi sono rivolto per preparare questa presentazione è un'opera che costituisce la base per uno sviluppo potremmo dire economico sociale del sistema della mobilità e del trasporto quindi è qualcosa di stabile qualcosa di duratura e permanente nel tempo è l'aspetto che io voglio sottolineare nel descrivere questo macro componente fondamentale questo organismo chiave nell'ecosistema del mass mass for Italy di un progetto che si rivolge a tutto il territorio nazionale nelle sue varie articolazioni dal punto di vista tecnologico io non vorrei aggiungere ulteriori elementi vorrei semplicemente evidenziarne attraverso questo grafico l'architettura e in particolare la parte di condivisione dei dati che attinge a un elemento di cui parlerà l'ingegnere Arneodo che si chiama Network Access Point che raccoglie i dati relativi ai servizi degli operatori di mobilità e trasporto siano essi statici o dinamici poi c'è un livello che raccoglie raccolta ed esposizione dei servizi che non sono necessariamente localizzati nell'infrastruttura tecnologica del DSSRF ma possono essere anche esposti attraverso di essa perché attinti da altre fonti in questo grafico che vuole essere puramente significativo non ha un puro valore progettuale vediamo raggruppati in vari esagoni le categorie dei servizi ma in questa slide volevo fare vedere come ci sono due importanti interlocutori blocchi interlocutori innanzitutto gli operatori mass che sono i sistemi che saranno sviluppati da parte degli aggiudicatari dei progetti tra cui le sei città di cui ha parlato Dario Malerba e ulteriori sette progetti rivolti a territori di diversa natura ma anche l'osservatorio nazionale del TPL altra infrastruttura digitale che in questo contesto sarà sviluppata in maniera molto consistente ovviamente gli operatori del trasporto di mobilità che sono gli attori fondamentali in quanto erogano il servizio ora ritorniamo al termine infrastruttura dobbiamo intendere come la parte centrale permanente dell'investimento pubblico della misura 146 del PNRR questo componente ed era la maniera più secondo me più intelligente più oculata di allocare risorse su qualcosa che è destinata a rimanere nel tempo a svilupparsi incrementalmente e continuamente e che ha una funzione abilitante perché oltre a questi primi 13 progetti che avranno la possibilità di attingere ai finanziamenti pubblici resterà per dare modo alle amministrazioni che vorranno e potranno sviluppare un MAS di avvalersi di quei servizi rende in maniera nativa l'interoperabilità tra i vari operatori MAS quindi a vantaggio dei servizi interterritoriali o extraterritoriali e offre una uniformità e rapidità di sviluppo agli operatori MAS che nasceranno si integra nel sistema più complesso della digitalizzazione della mobilità vedremo il NAP con l'ingegnere Arneodo abbiamo l'osservatorio nazionale per il TPL un ulteriore elemento di originalità nello sviluppo di questo componente consiste nel confronto con tutti gli attori del contesto del sistema interessati co-interessati o contro-interessati che sono stati invitati a un tavolo partenariale a cui hanno partecipato decine di soggetti io non so quanti interventi pubblici hanno visto un tale livello di confronto per cui il DSSRF cioè questo data sharing and service repository facility nasce anche dal contributo di tutti coloro che lo vorranno dare che sia un contributo costruttivo sia un contributo critico ma comunque tiene conto di tutti i punti di vista ed è stato un momento di consultazione pubblica che non si è esaurito in quanto continuerà nel tempo un tavolo partenariale un'ulteriore sessione sarà convocata per la fine del mese ecco sviluppo incrementale di questa infrastruttura innanzitutto come ha detto Dario Malerba i progetti pilota saranno l'occasione di porre delle basi degli elementi iniziali e fondamentali del DSSRF ulteriori affinamenti progettuali potranno essere apportati nel corso del tempo ci sarà una parte sperimentale ci sarà una parte in cui la sperimentazione si potrà stabilizzare e offrire soluzioni più consistenti ma c'è un altro aspetto questa piattaforma questo layer di dati e servizi è anche e questo ancora non è non è venuto fuori in tutte le descrizioni nei confronti che hanno riguardato questo componente tecnologico è anche una arena di scambio di componenti software in che modo quindi questo componente si accresce e si evolve attraverso il contributo degli sviluppatori chiamati o a costruire soluzioni mass territoriali oppure del tutto terzi che vorranno mettere a disposizione i loro componenti per lo sviluppo generale chiamati a integrare questo catalogo questa raccolta questa miniera di servizi con i loro prodotti attingendo a eventuali componenti che siano già presenti nel repository e in questo modo la piattaforma in sé avrà un suo modello di sviluppo un modello di scambio che grazie all'effetto rete cioè grazie a quell'effetto di cui godono le piattaforme per cui più elevato il numero di componenti partecipanti tanto più elevato è lo stesso numero nel futuro quindi un incremento esponenziale di chi contribuisce alla piattaforma non potrà altro che favorire la stabilizzazione e l'affermazione di questo componente bene io voglio ringraziare chi ha contribuito chi sta contribuendo allo sviluppo di questo layer e in particolare i colleghi del Dipartimento per la Trasformazione Digitale che sono qui presenti ci sono qui Sara Raniero Denis Marini e Ilaria Capocci oltre a Dario Malerba oggi pomeriggio ci sarà il professor Mauro volevo evidenziare come in una maniera molto inconsueta non so quanto spesso questo succeda i due ministeri il mio e quello dei colleghi stanno lavorando come se fossero parte di un unico ministero di un'unica organizzazione questo è molto deve essere sottolineato e deve essere data la giusta enfasi a questo fenomeno che secondo me avrà successo e vi ringrazio grazie grazie mille Giorgio per questa presentazione e intanto saluto il sindaco Gualtieri grazie di essere venuto grazie di essere venuto e visto che tu hai citato Vito Mauro io lo saluto visto che sta qua davanti a questo punto grazie Vito che sei qua allora dunque abbiamo grazie Giorgio di questa presentazione e io a questo punto anche mi associo al dire che questo lavoro di tandem fra i due ministeri è fondamentale perché la pubblica amministrazione non può essere a settori stagni ma deve collaborare questo è un esempio veramente importante di come la collaborazione fra due enti istituzionali con i due ministeri stia portando i suoi tanti importanti quindi grazie Giorgio di averlo detto e hai anche citato il NAP e a questo punto mi dai l'assist per poter introdurre Fabrizio Orneo che è il chief information technology office di 5T anche esperto di CEN un info insomma l'uomo degli standard in pratica dunque quindi il suo intervento è sull'adozione dei standard CEN scusa nell'interazione di ESN e SRFS e NAP multimodale io ricordo scusa prima che inizi che è vero che il NAP è stato diciamo regolato dal regolamento europeo del 2017 ma anche è vero che ricordo a tutti che in questo momento si sta facendo la revisione della nuova DTI che sarà pubblicata dentro l'anno e in cui tutte queste cose saranno mandatori quindi voglio dire insomma ci sta un'evoluzione di questi regolamenti delegati che ci vedrà protagonisti nel prossimo periodo ok quindi vai Fabrizio scusa se ti ho rubato il tempo ma ci tenevo a dirlo grazie Olga buongiorno a tutti e appunto cercherò in questi minuti che mi sono stati messi a disposizione di condividere con voi come anticipava l'ingegner Pizzi di scavare un pochettino di più in quello che è la progettazione gli elementi un po' più tecnici che sono stati individuati e scelti proprio nell'ambito della progettazione ed in particolare appunto l'utilizzo di questi standard e vedremo perché sono state fatte alcune scelte vado subito diciamo al dunque ci tenevo come anticipato Olga a darvi un veloce inquadramento normativo rispetto al quale tutte queste attività comunque si vanno ad inquadrare chiaramente non è un quadro esaustivo sono degli accenni ritenevo doveroso ricordare appunto che il quadro di riferimento è quello della direttiva 40 del 2010 che come molti di voi sanno benissimo sostanzialmente identifica tutte le modalità di spiegamento delle tecnologie applicate ai trasporti quindi i sistemi ITS come questi devono essere realizzati sul territorio europeo per garantire ovviamente l'interoperabilità e anche l'erogazione di servizi interoperabili in particolare vengono identificate sei aree prioritarie la prima che è quella di interesse dei tavoli che si apriranno durante questi due giorni è quella dei servizi di informazione sui servizi multimodali quindi la 1926 poi ci sono aree prioritarie legate alle informazioni sul traffico in tempo reale la raccolta dei dati minimi relativi ai servizi di traffico orientati alla sicurezza l'emergency call e poi tutto ciò che concerne diciamo le informazioni sui stalli di parcheggio per aiuto mezzi pesanti e la loro relativa prenotazione questo quadro normativo appunto da origine è stato poi ha dato poi origine nel corso degli anni a dei regolamenti delegati che naturalmente per loro natura entrano maggiormente nel dettaglio e diventano cogenti per gli stati membri quindi bisogna aderire e indirizzare quello che viene richiesto come vedete tutte queste aree prioritarie fatto salvo quella dell'emergency call richiede la costruzione di questi punti di eccesso nazionale in inglese NAP National Assess Point che prevedono la raccolta di dati diciamo della mobilità rispetto a quello che descrivevo poc'anzi sulle aree prioritarie e l'erogazione di servizi a seconda appunto di ciò che si deve operare da questo punto di vista vengono anche indicate la cosa interessante che questi regolamenti si spingono anche a indicare le modalità tecniche che devono essere adottate per scambiarsi e per raccogliere questi dati all'interno di questi NAP e sono degli standard europei sviluppati in seno al Comitato Europeo di Normazione il CEN e sono fondamentalmente in estrema sintesi il Datex 2 per tutto ciò che concerne le informazioni sul traffico la raccolta dei dati del traffico sia statici e sia dinamici tutto ciò che concerne poi col Transmodel il modello dati di riferimento europeo per il trasporto collettivo che è stato recentemente steso alla multimodalità il protocollo di scambio dati statici della mobilità Netex che sta per Network Time Table Exchange di interesse soprattutto del NAP multimodale poi abbiamo il protocollo Siri che serve per trasportare le informazioni dinamiche in tempo reale del trasporto collettivo per passare poi a standard un po' più particolari come ad esempio le Open Journey Planner quindi delle interfacce standard per far colloquiare motori di calcolo percorso già esistenti e quindi andare a costruire sostanzialmente di calcolo percorso distribuiti o federati questo è anche un aspetto molto interessante per i servizi di infomobilità per chiudere con lo standard OPERA Operating Road Data and Statistics Exchange che ha a che fare con l'identificazione dei dati della mobilità importanti per abilitare il calcolo di indicatori chiave Key Process Indicator ecco di tutti questi regolamenti come anticipavo quello di riferimento per diciamo gli argomenti di questa nostra due giorni è sicuramente il regolamento delegato 1926 sui servizi multimodali che come anticipavo richiede la costruzione di un national access point il quale deve da una parte raccogliere dati e dall'altra erogare servizi raccoglierà dati della mobilità multimodale cosiddetti statici attraverso questo protocollo che citavo che si chiama NETEX e dati dinamici in tempo reale attraverso il protocollo Siri questi servizi che dovrà erogare sono definiti su tre livelli a complessità crescente e fondamentalmente per quanto riguarda quelli statici al primo livello diciamo che si tratta di raccogliere i dati come dire di base quindi gli orari dei servizi di trasporto le informazioni sulla topologia di rete sui device sulle caratteristiche delle flotte di trasporto collettivo per passare poi al secondo livello dove si vanno ad aggiungere le informazioni sulle altre modalità di trasporto quindi la mobilità condivisa la micromobilità e tutto ciò che concerne anche l'arricchimento della topologia di rete per collegare per connettere queste diverse modalità di trasporto come ad esempio i punti di park and ride le stazioni intermodali eccetera per passare poi a un terzo livello più ricco che va a completare il set dei dati con tutte le informazioni sulla tarifazione quindi titoli di viaggio comuni titoli di viaggio speciali integrati le informazioni sui punti di ricarica dove posso trovare le colonnine elettriche dove poter ricaricare e le aree di parcheggio analogamente a livello poi di dati dinamici in tempo reale anche qui si avranno tre livelli di servizio i primi sono sicuramente avere le informazioni su cosa sta accadendo quindi come si muovono i mezzi quali sono in ritardo ci sono delle deviazioni se sono in una struttura una struttura ferroviaria una stazione se ci sono delle informazioni su uscite di sicurezza che cambiano quindi informazioni chiamiamole dinamiche ma basilari per passare anche qui a livelli più sofisticati su dove posso prenotare una colonina di ricarica elettrica quando è disponibile quali sono le previsioni di arrivo in tempo reale alle fermate e per arrivare ad un terzo livello che addirittura ha una capacità di aggiustare e calcolare le previsioni di tempi di viaggio sulla rete di riferimento detto ciò cosa abbiamo fatto e cosa stiamo facendo in Italia per il deploying per il dispiegamento di questo national access point multimodale poi vedremo anche perché ne stiamo parlando così diffusamente rispetto al mass for it innanzitutto abbiamo definito un cosiddetto profilo italiano dello scambio dati netex cioè una personalizzazione di questo standard europeo che per definizione è molto ampio molto vasto e anche piuttosto complesso adattato ai casi d'uso che servono al nostro paese si è previsto quindi la definizione a livelli incrementali successivi anche qui con un primo livello che è chiamato EPIP che sta per European Passenger Information Profile cioè tutte le strutture dati necessarie per avere le informazioni sullo scambio dati e l'informazione all'utenza un secondo livello che serve a trasportare i dati che servono all'osservatorio nazionale del TPL per favorire anche questo dato per poi procedere verso livelli più sofisticati e rispondere ai servizi che descrivevo prima sulla tarifazione sulle modalità alternative di trasporto e sull'accessibilità in particolare tutto ciò è anche stato dato origine ad un interessante sequenza di interazioni con gli enti delegati cioè l'architettura che si sta dispiegando non è solo un'architettura informatica ma è anche un'architettura di governance dove la raccolta di dati sul territorio verrà effettuata a livello regionale si è pensato appunto di costruire dei cosiddetti punti di accesso regionale regional access point RAP i quali poi verranno interrogati dal NAP per raccogliere e portarsi a bordo a livello centrale i dati che abbiamo visto velocemente prima 15 regioni italiane si sono già rese disponibili e con con varie tempistiche si renderanno poi si attrezzeranno per mandare questi dati quattro di queste sono già pronte per attivarsi tra fine luglio e i primi di agosto per una fase sperimentale che durerà un mese un mese e mezzo di invio dati verso il NAP e sono la regione Piemonte la regione Liguria la regione Veneto e la provincia di Bolzano ecco arriviamo quindi adesso a capire come mai questa attività del National Assess Point è così interessante per il Mass for Italy perché come avete visto c'è tutta un'operazione anche molto formale e dal punto di vista proprio anche di verifica dei dati che vengono raccolti al National Assess Point e attraverso il tavolo partenariale è stato proprio individuata l'opportunità di poter riutilizzare i dati che vengono raccolti al NAP anche a favore del DS and SRF e quindi sostanzialmente queste due piattaforme avranno un punto di contatto che è proprio il data sharing e il DS and SRF avrà in eredità i dati che il NAP andrà a raccogliere questo anche in ottemperanza della direttiva Agid che richiede alla pubblica amministrazione di evitare duplicazione di dati e di ottimizzare la raccolta di questi mi fermo qua perché il mio tempo di disposizione è terminato e ringrazio gli organizzatori per avermi invitato grazie grazie mille Fabrizio di questa spiegazione io ribadisco il fatto che nella nuova direttiva quella che sarà poi insomma avverata alla fine dell'anno molto molto presumibilmente tutto questo sarà assolutamente considerato e reso anche diciamo obbligatorio allora io ringrazio i direttori della prima sessione ringrazio i due ministeri soprattutto anche lo scoop di averci dato le tre città diciamo che hanno vinto la seconda la seconda secondo bando e a questo punto passerei la parola alle nostre tre città diciamo che hanno già che sono già state diciamo che sono già partite su Mass for Italy in particolare comincio a dare la parola alla mia con tutto rispetto visto che insomma non dobbiamo scegliere allora e qui invito proprio su questo palco l'assessore della mobilità la nostra assessore della mobilità Ogino Patanè Luca Varello direttore Centrale della mobilità di Roma Servizi della mobilità e Francesco Amendo responsabile di direzione ICT di Atac quindi grazie a chi ha già parlato e invito per favore i miei relatori a raggiungermi assessore prego accomodatevi e quindi anche così per rispetto alla politica io bastare subito la parola all'assessore Patanè il quale ci dice un po' qual è la politica della nostra città intanto io vi ringrazio per lo sfondo delle telestrade che è assolutamente meravigliosa insomma quindi fa capire dove siamo e quindi subito invito all'assessore a raggiungere il podio per dirci appunto cosa Roma intende fare su Mass For Italy grazie assessore ma grazie innanzitutto benvenuti grazie a TTS Italia per l'organizzazione insomma è un onore sì telecomando col verde lo facciamo next dicevo per noi è un onore tra l'altro in un posto appunto così importante fatevi ringraziare anche l'auditorium che ci ha messo a disposizione la sala insomma e la loro organizzazione Roma è impegnata in una battaglia molto delicata complessa che è quella di riuscire a trasformare una città che è sostanzialmente autocentrica in una città che esce dalla dittatura delle automobili per entrare invece in una democrazia di spostamenti attraverso diversi fattori quindi attraverso diversi mezzi di spostamento quindi una diciamo la cosa che i vecchi chiamavano intermodalità e questo comporta una serie di azioni alcune dure complesse che non godono certe volte del favore della cittadinanza ma che noi riteniamo necessari non soltanto per cogliere gli obiettivi che la comunità europea ci ha dato così stringenti ma anche per un dovere morale abbiamo tre problemi il primo è diminuire la congestione in città il secondo la salute pubblica quella fisica e quella mentale dei nostri cittadini e il terzo è appunto il dovere che noi abbiamo di combattere insieme alle altre città i cambiamenti climatici ora tutto questo comporta diciamo tre azioni la prima è un aumento considerevole della quantità e della qualità del trasporto pubblico su ferro su superficie eccetera il secondo punto è una lotta importante all'utilizzo dell'autovettura ma soprattutto alla proprietà dell'autovettura che nella nostra città ha raggiunto dei livelli inaccettabili cioè il fatto che il numero delle autovetture ha superato il numero delle patenti che abbiamo 2 milioni e 400 mila veicoli dei quali 1 milione e 700 mila sono autovetture che vengono utilizzate l'8% del tempo il 92% rimangono ferme sulle nostre strade quindi realizzando un prodotto che è antieconomico da un punto di vista sociale e antieconomico da un punto di vista dell'utilizzatore e del proprietario delle stesse autovetture e diciamo questo comporta tutta una serie di ragionamenti appunto che ci fanno mettere in campo come diceva il sindaco all'inizio un cronoprogramma di provvedimenti di disincentivo che diciamo renderà operative una low emission zone che è la fascia verde che coprirà il 16% del territorio da novembre 2022 completando la posizione dei varchi che quindi renderà effettivamente operativa questa low emission zone entro il 2023 a partire e sfruttando l'occasione del giubileo una zona che chiameremmo da ZTL VAM che copre il 2% del territorio ma il 2% del territorio a Roma è un pezzo molto importante quasi diciamo anzi un po' più di tutta la città di Milano nella quale introdurremo una zona di congestion charge a partire dall'8 dicembre del 2024 e infine rafforzeremo le ZTL esistenti che coprono il patrimonio UNESCO della città per lo 0,4% del territorio quindi queste due azioni aumento del trasporto pubblico grazie anche ai fondi del PNRR ai fondi del Ministero e politiche di disincentivo all'utilizzo e alla proprietà dell'auto privata che sono due aspetti diversi ma ugualmente come dire impattanti e poi il terzo diciamo il terzo asset per noi strategico è esattamente quello dell'innovazione tecnologica cioè il fatto di introdurre corposi dose di innovazione per rendere tutto questo e questi obiettivi più semplici più efficaci più efficienti ed è evidente che però almeno a mio avviso poi voi siete molto più esperti di me chi si occupa di questi temi ma l'innovazione tecnologica mi avviso deve essere presa come uno strumento un mezzo per raggiungere determinati obiettivi non bisogna mai far sì che l'innovazione sia esso stesso fine ma deve essere appunto uno strumento per chi di obiettivi ne ha ecco io ne ho citati alcuni e spero che l'introduzione del MAS possa essere esattamente un mezzo uno dei mezzi che ci consente di raggiungere questi obiettivi il sindaco ne ha citati alcuni e quindi non li ripeto cioè questa rivoluzione copernicana di mettere al centro l'utente di cambiare la prospettiva di far sì che quello che è stato fino adesso e cioè che i trasporti e la mobilità venissero visti dagli occhi dell'esercente ti metto a disposizione una linea che sia una linea ferroviaria che sia una linea tramviaria o di bus e poi fai tu ecco oggi invece noi abbiamo la necessità di andare sempre di più verso le necessità dell'utente capire quali sono le sue necessità di spostamento e di trasporto ma non basta questo quindi diciamo non soltanto diciamo cucirgli addosso un vestito di spostamento attraverso le diverse modalità ma anche applicargli una bigliettazione e una tariffazione che sia premiante rispetto a comportamenti virtuosi che noi intendiamo essere virtuosi anche qui c'è un rapporto tra strumento e obiettivo che noi dobbiamo raggiungere ecco io mi aspetto tutto questo dal MAS mi aspetto che diciamo ci sia una semplificazione per l'utente oggi i romani fino a questo momento adesso devo ringraziare Atac che sta inserendo ovviamente delle dosi sempre più importanti innovazione tecnologica oltre al Tapp and Go nelle metropolitane abbiamo inserito anche il Tapp and Go sugli autobus entro quest'anno saranno tutti serviti appunto dal Tapp and Go ma prima fino a poco tempo fa bisognava andare al tabaccaio a cercare un tabaccaio ma questo non è soltanto anti-economico ma favorisce anche una dose di evasione tariffaria che diciamo colpisce direttamente le aziende guardate io sono convinto che un pezzo dell'evasione tariffaria sia endemica e che noi non la possiamo diciamo come dire eliminare ma dobbiamo lavorare su quel pezzo di evasione tariffaria che come dire possiamo combattere e il MAS ci deve aiutare esattamente a fare questo a semplificare l'accessibilità a rendere il trasporto pubblico più accessibile più fruibile più più semplice insomma ecco io mi sono dimenticato le slide scusate vado avanti allora che cosa noi diciamo abbiamo tentato di fare la città di Roma in questi in questi tempi ha ritornato ad essere protagonista come voi avete visto ad avere un ruolo anche da leader tra le grandi città italiane grazie all'aggiudicazione del bando Mass for Italy ci abbiamo creduto diciamo fin da subito fin dalle linee guida con le quali il sindaco si è presentato alle elezioni e che poi ha ribadito il consiglio comunale dopo l'elezione e quindi noi saremo parte attiva di questa trasformazione digitale e sostenibile della mobilità e questo lo faremo insieme agli altri comuni pilota cioè insieme a Milano e Napoli ed è un grande piacere che insomma siano qui a confrontarci con noi ma diciamo con i quali ci siamo confrontati nel corso di questi mesi per fare che cosa noi siamo la capitale d'Italia siamo stati chiari fin dal primo momento non intendiamo fare fuga in avanti noi stiamo all'interno di un ragionamento di linee guida nazionali intendiamo lavorare con i ministeri proprio per far sì che ci sia un'omogeneizzazione un'armonizzazione e soprattutto che ci sia un'interoperabilità dei sistemi a me convince molto quell'esempio che si fa di dire ma insomma noi dobbiamo far sì che un cittadino che parte da Ischia possa arrivare a Roma con tutti i mezzi no non è il mio diciamo l'esempio io lo ripeto ma io lo condivido e quindi lo ripeto perché perché Ischia è particolarmente interessante perché tu devi prendere il traghetto devi prendere il treno devi prendere poi altri mezzi integrandoli tutti quanti insieme non esiste diciamo che Roma ma almeno parlo per noi che agiamo come una monade diciamo all'interno di diciamo di una vastità non soltanto del territorio nazionale ma anche del complesso diciamo di quello che in Europa si sta facendo quindi noi andremo avanti seguendo insieme alle altre città questo questo percorso che cosa abbiamo fatto fino a questo momento abbiamo portato semplicemente una memoria di giunta che individua al nostro interno anche qui c'è stata qualche qualcuno che ha sorto la bocca ma noi abbiamo fatto una memoria interna di organizzazione il policy maker rimane la giunta e quindi l'amministrazione comunale abbiamo fatto sì che Mass Integrator per Roma sia Roma Servizi della Mobilità e che quindi noi diciamo anche all'interno di un'organizzazione più complessiva ci farebbe piacere che Roma Servizi possa svolgere questo ruolo anche di porta regionale e poi abbiamo dato ad ATAC il ruolo di Mass Operator ma è un'organizzazione interna non intende essere diciamo un'organizzazione diciamo assoluta e Roma Servizi su questo ha fatto dei passi avanti molto importanti e chiudo senza rubarvi altro tempo Roma Servizi ha lavorato in questi anni sull'implementazione del Data Lake che diciamo è un pezzo fondamentale prioritario e preliminare rispetto a tutti i discorsi che stiamo facendo ha lavorato per esempio sulla innovazione anche della centrale della mobilità che è un altro pezzo diciamo fondamentale e per noi rappresenta come dire il braccio armato dell'amministrazione dal punto di vista dell'innovazione della pianificazione anche dei servizi di innovazione che vogliamo introdurre chiudo dicendo che se questi sono gli obiettivi e questi sono gli strumenti noi siamo come dire all'interno di un pezzo di storia cioè stiamo facendo la storia del trasporto pubblico dopo decenni anzi secoli di una visione che è una visione come dire nel quale diciamo il centro non era l'utente ma erano altri dobbiamo stare in questo flow dobbiamo non avere paura del buio perché per esempio anche nelle relazioni iniziali a me ha fatto molto piacere che l'approccio sia stato non soltanto laico ma dicendoci la verità cioè nelle relazioni iniziali di chi ha parlato ho sentito Malerba gli altri dicevano guardate queste cose non le sappiamo non sappiamo non le conosciamo e allora dicendoci la verità forse possiamo raggiungere diciamo degli obiettivi concreti e dei risultati concreti e quindi vi ringrazio di questo approccio perché probabilmente nessuno sa che cos'è il MAS e teoricamente dovremmo scoprirlo tutti quanti insieme con la squadra grazie grazie mille assessore per questa visione anche io condivido col fatto che stiamo entrando in un mega buco nero parliamoci chiaro perché insomma l'abbiamo anche visto noi come DTS Italia nel gruppo di lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso che poi ha portato le linee guida nostre e che sono state io sono contenta che sono state molto ben recepite anche dai due ministeri qui presenti beh insomma siamo veramente in un buco nero ma noi abbiamo la capacità di riuscirne fuori quindi assolutamente sì e visto che l'ha citato molto spesso Roma Servizi io a questo punto do l'assessuto a Luca Varello per raggiungere il podio e dirci invece cosa fa Roma Servizi luca attenzione ai tempi per favore sì grazie riprendo da dove l'assessore ha in qualche modo definito il punto la storia di un'innovazione tecnologica è partita da molto lontano per quanto riguarda Roma e siamo partiti penso dalle fondamenta spero che chi ha valutato la nostra proposta di partecipazione al bando abbia apprezzato questa non si può costruire una vera innovazione se non partendo dalle fondamenta e anche gli interventi di prima in particolar modo sul tema dei dati e dell'integrazione delle informazioni potrebbero sembrare in qualche modo noiosi non lo sono sono la precondizione affinché ci sia una vera integrazione una vera operabilità non esistono scorciatoie su questi temi così complessi e articolati e quindi il tema del data lake è stato sicuramente un tema faticoso spesso le scelte di innovazione tecnologica sono state frutto di iniziative sovrapposte ma mai nella logica di integrazione abbiamo fatto quindi questa fatica di aggregazione e integrazione dei dati che sono poi in qualche modo il presupposto per il mestiere che Roma Capitale ci ha chiamato a fare come massa integrator e di conseguenza il tema della centrale perché il dato deve essere trasformato in informazione per essere trasformato in informazione è necessario che sia un'informazione strutturata soprattutto in una città come Roma e chi di noi la frequenta quotidianamente sa quanti accidenti accadono sulla rete dei servizi e quanto è necessario che l'informazione sia puntuale e rigorosa proprio per permettere le scelte più efficaci e più sensibili quindi il tema gestione e monitoraggio regolazione e controllo infomobilità e previsioni di traffico perché ormai penso che la frontiera sia arrivata al punto di poterci permettere di effettuare delle previsioni di traffico ragionate proprio perché eravamo partiti per tempo ci siamo trovati in qualche modo anche in maniera franca in distonia rispetto all'approccio che Masforitaly poi ha portato sul panorama nazionale noi avevamo lanciato proprio sulla spinta della nuova amministrazione una visione locale di un Mas di cui percepivamo l'esigenza e anche la complessità che partisse da una logica di una piattaforma di un marketplace dove poter far incontrare operatori di mobilità e Masso Peretoro in prima istanza ovviamente il nostro Masso Peretoro riferimento che è ATAC questa visione in qualche modo è stata piegata quindi anche ha raccontato Dario il dibattito franco che abbiamo avuto anche articolato per arrivare alla sottoscrizione dei progetti e delle convenzioni perché ci siamo resi conto che la nostra visione per quanto coraggiosa aveva il rischio di essere una soluzione locale io sono tanti anni che spesso sento dire e ci diciamo tra detti lavori che mancano delle scelte di sistema paese io credo che il Masso For Italy sia una scelta di sistema paese anche in difformità di altri paesi europei che hanno fatto soluzioni diverse però è una sfida che affrontata in questo modo secondo me ha grandi possibilità di essere raggiunta e quindi la scelta della piattaforma unica che è stata raccontata con dovizia di particolari da chi mi ha preceduto è la soluzione del tema dei dati perché non ci può essere integrazione delle informazioni se non ci sono dati la logica dei servizi integrati quindi è quella di poter vedere un mercato dei Masso Peretor fino ad oggi questo mercato in qualche modo non esiste o è stato un mercato non regolato invece dobbiamo partire da subito diffondendo raccontando definendo i perimetri in cui i Masso Peretor dovranno e potranno competere offrendo le migliori soluzioni verso gli utenti e quindi favorendo di fatto la diffusione dei servizi Masso cito l'esempio di Berlino che durante l'esperienza precedente ci aveva molto intrigato fatto da Beveghier un'azienda molto bella chiunque di noi l'ha intercettata vivendo qualche giorno a Berlino se ne è reso conto una piattaforma fortemente inclusiva ma a distanza di tre anni solo il 5% dei viaggi che avvengono in modo digitale nelle città di Berlino sono gestiti dalla proposta realizzata dal Masso Peretor proprio perché la diffusione di questo servizio non è riuscita a entrare nelle corde degli utenti dei servizi della città di Berlino stessa quindi il paradigma è stato raccontato noi ci teniamo ad essere parte di questo paradigma quindi la logica del NAP declinata in maniera puntuale da chi mi ha preceduto l'importanza di un RAP con un regional chest point che possa caratterizzare e immaginate cos'è Roma nella logica regionale un'informazione più puntuale più locale ma arricchita anche di funzionalità che possono essere peculiari evidentemente di alcune esigenze territoriali specifiche e poi un sistema diciamo un ecosistema metropolitano che attraverso proprio le azioni proprie di una centrale della mobilità possa essere strumento di monitoraggio dei servizi e quindi gestione delle criticità e un'informazione integrata bene quindi il valore al cittadino perché noi stiamo facendo tutto questo ogni tanto forse ce lo dimentichiamo perché abbiamo a cuore che ci siano cittadini utenti siti user che possano apprezzare e concretizzare la possibilità di innovare il modo di muoversi in città il valore al cittadino si concretizza attraverso il mass operator che diventa il punto di ingresso della catena del valore e questo però può avvenire in maniera diffusa solo e soltanto se i mass operator potranno avvalersi dei servizi messi a disposizione dal mass integrator attraverso la piattaforma ben descritta del DS e del SRF qual è la sperimentazione romana che ci candidiamo a portare avanti nel perimetro del mass for Italy siamo convinti di poter promuovere una sperimentazione solida con 10.000 utenti lo ha ricordato Dario la proposta iniziale minima era di 1000 noi vogliamo aggredire 10.000 utenti li vogliamo chiamare city user cito uno dei tanti accordi che abbiamo fatto abbiamo fatto un accordo che ci ha permesso di sederci al tavolo avendolo già sottoscritto col federalberghi perché noi vogliamo coinvolgere per esempio i turisti a Roma che evidentemente hanno probabilmente anche una minore capacità di comprensione dell'offerta di mobilità anche per la brevità della loro presenza e soprattutto probabilmente hanno abitudini diversi di fruizioni di app che magari non potrebbero trovare sul nostro territorio quindi nella quota di 10.000 attraverso una collaborazione con federalberghi ci sarà evidentemente anche la possibilità della sperimentazione da parte di turisti che frequenteranno la nostra città i nostri servizi riguarderanno sette modi di trasporto diversi e 22 operatori tutti gli operatori che abbiamo perimetrato che oggi in qualche modo garantiscono servizi di mobilità hanno già sottoscritto l'accordo e la disponibilità di essere al tavolo di integrazione ne cito uno faticoso soprattutto in queste ore la più grande cooperativa radio taxi che a Roma è il 3570 ha deciso prima addirittura della vittoria da parte di Roma di sottoscrivere con Roma Capitale un accordo per integrare anche i servizi taxi all'interno della logica di un servizio mass la durata prevista è di circa 6-8 mesi fondamentale un accordo anche con gli atenei con le aziende con i mobili manager per individuare il corretto campione perché siamo convinti che questa sperimentazione è produmica a far sì che un minuto dopo possa aggredire l'intera popolazione gli interi frequentatori di Roma il nostro obiettivo oltre che traguardare evidentemente le milestone previste dal progetto Mass for Italy e che noi sulla sfida giubilare la vogliamo giocare con un mass effettivamente operativo nella nostra città quindi quello che accadrà un minuto dopo il termine della sperimentazione deve essere la possibilità di allargarla e renderla universale ecco perché vogliamo che il nostro campione sia il più corretto il più puntuale possibile una roadmap questa è la mia penultima slide che testimonia che in qualche modo eravamo consapevoli della necessità di occuparci del tema Mass da tanto tempo ricordo un progetto il nome Cicerone finanziato dal ministero ambientale che ci ha permesso di avviare una progettualità già all'interno dell'anno 21 e lo completeremo integrando anche come qualcuno ha ricordato prima gli operatori che garantiscono il sistema di ricariche elettriche tra la lista dei sottoscrittori dell'accordo c'è Enel X e Acea Innovation per cui noi nelle azioni di integrazione vogliamo da subito garantire anche la possibilità di prenotare una colonina di ricarica per non parlare evidentemente dei trasporti a lunga percorrenza e sono tutte rose e fiori probabilmente no quindi ho provato ad elencare dei fabbisogni assolutamente inderogabili cito l'ultimo il commitment degli stakeholder per quanto riguarda la nostra amministrazione non perché qui il mio assessore è chiaro non c'è giorno in cui l'amministrazione non ci chiede di essere puntuali e presenti su questo tema garantendo che Roma deve essere parte attiva di questo progetto di questa chance nazionale ci vogliamo essere con il nostro contributo speriamo significativo e vogliamo percorrerla fino in fondo accelerazione dei processi di raccolta dei flussi informativi non c'è possibilità di integrazione se non ci sono dati io scusate sarò noioso ma se non partiamo da questo faremo un altro convegno l'anno prossimo sarà più bello anche di questo qui che stiamo facendo che comunque mi sembra di grande successo e di questo ringrazio a TTS perché parlare tra detti lavori è un voto raggiunto e non soltanto magari confrontarci su fantasiose ricostruzioni su che cos'è sia un mass però dobbiamo partire dalla struttura dei dati siamo molto speranzosi della disponibilità di DSSRF aspettiamo di avere infatti contezza di questa azione perché è il cuore pulsante insieme al NARP e ovviamente una rete di connessione di riferimento perché non c'è chance di successo se c'è integrazione fra le città tra i ministeri tra gli stakeholder e fra tutti gli operatori grazie a tutti grazie mille Luca io prima di passare la parola a Francesco vorrei farmi dire tre parole cioè innanzitutto il discorso che tu hai detto l'integrazione dei dati allora io ribadisco che la nuova direttiva proprio renderà il discorso dei dati assolutamente obbligatorio quindi noi siamo veramente in pieno diciamo coerenti con quello che è la spira di una nuova direttiva questo è fondamentale seconda cosa così non vorrei fare diciamo ricordi vintage però insomma io nella mia vita come tu ben sai ho cominciato proprio con una servizia che all'epoca si chiamava STA insomma e sono stata avuta il privilegio di essere dalla prima che ha acceso la centrale di conto del traffico il primo maggio del 2000 quindi lo dico chiaramente insomma è stata una emozione fortissima e ancora ce l'ho dentro e dico questo che se non c'è l'integrazione degli stakeholders che non c'è l'integrazione dei vari soggetti che concorrono ai servizi di mobilità non si fa nulla noi all'epoca insomma io mi ricordo qua c'erano dei vecchi colleghi che lavoravano con me le litigate con i taxi le litigate con i igi litigate con tutti perché se non c'è quella che si chiama e qua mi cito il professor Mauro l'architettura organizzativa non si fa niente cioè questo in termini architettura forse è un po' vintage noi abbiamo fatto nella che era vita nel 2000 2001 l'architettura nostra insomma però in effetti il concetto architettura organizzativa è un concetto sempre valido e se non c'è quella insieme ai dati non funziona niente perché se tu vuoi fare il master ma non hai il TASINAI non hai il TPR hai niente il master non lo fai quindi concordo pienamente con la visione che ha dato Matteo Antoniola nel suo intervento l'orchestra l'orchestra è fondamentale quindi adesso io passo subito la parola ad ATAC a Francesco Mendola di responsabile di azione di ATAC che proprio insomma rappresenta il TPL diciamo quindi Francesco è un ruolo preciante voglio dire buongiorno a tutti grazie ovviamente TTS per l'organizzazione e l'invito e allora vado a concludere questa sessione andandovi un po' a descrivere quali iniziative coerentemente con la visione politica che appunto c'è stata rappresentata inizialmente ATAC sta conducendo e con l'obiettivo di realizzare il master di Roma Capitale e soprattutto di essere partecipe di questo progetto di questa sperimentazione che è appunto il master for Italy Allora ce lo siamo detti in tantissime occasioni per fare il MAS occorrono ovviamente occorre la partecipazione di tantissimi soggetti e tantissimi operatori ma sicuramente il TPL è quell'elemento imprescindibile quell'elemento fondante un po' di tutte le soluzioni MAS che vogliono ovviamente avere successo e quindi abbracciare la più diffusa parte degli utenti dei clienti della popolazione quindi sicuramente quello di Atac è un ruolo strategico nello sviluppo del MAS per la città di Roma e appunto la delibera di giunta che ha riconosciuto questo ruolo ad Atac è importante perché va a chiarire i razionali per cui questa scelta è stata fatta quindi di assegnare ad Atac il ruolo di MAS operator per coerenza con la logica di missione e quindi andare a declinare che cosa ci si aspetta che Atac faccia con questo nuovo ruolo quindi che si affianca a quello diciamo storico di operatore di trasporto quindi sostanzialmente noi andremo a gestire operativamente il servizio MAS nei confronti dei cittadini a promuovere la vendita di questi servizi che vanno quindi oltre il TPL perché ovviamente ci rivolgiamo a tutti i servizi di mobilità nell'ottica di dare quindi soluzioni integrate intermodali alla clientela e quindi di essere interlocutore diciamo primario principale nei confronti di questi stakeholder di tutti gli stakeholder dell'ecosistema che come giustamente evidenziava Luca nel precedente intervento è fondamentale che siano tutti coinvolti e diciamo committed su questa progettualità affinché abbia successo quindi all'interno del Mass for Italy appunto andiamo a ricoprire questo doppio ruolo il primo quindi quello di Mass Operator che ha l'obiettivo di diciamo integrare la propria strategia di sviluppo del Mass per la città di Roma andando quindi a soddisfare quelli che sono i requisiti gli input gli indirizzi progettuali ed architetturali che abbiamo ricevuto che stiamo ricevendo dal Mass for Italy quindi ovviamente l'integrazione con il data sharing and service repository facility e quindi con tutta l'infrastruttura tecnologica che e il Mass Integrator RSM e i ministeri stanno realizzando proprio per essere diciamo uniformati e coerenti con tutte le altre città che concorrono a questa sperimentazione quello che noi andremo quindi a realizzare è questa nuova app ovviamente che vada a integrare un po' tutti i servizi e che quindi vada a offrire all'utente questa pianificazione intermodale con tutte le soluzioni di mobilità e trasporti che concorrono al Mass ma non solo perché ovviamente c'è anche un tema informativo e di supporto all'utenza quindi non è solamente diciamo consentirgli di acquistare diciamo il viaggio valutare quali sono le scelte migliori ma anche avere quindi un dialogo che è un'attività che già oggi noi svolgiamo limitatamente ai servizi di operatori di trasporto quindi di DPL e quindi andarlo ad allargare anche su tutti gli altri ambiti e sui contenuti e sull'offerta dell'app andare quindi a proporre in maniera integrata tutte queste soluzioni quindi a superare diciamo la frammentazione dei vari operatori e andare ad introdurre quello che è un elemento sicuramente interessante e che va a differenziare poi questa diciamo proposta nei confronti dell'utente quindi il wallet digitale il borsellino digitale che al di là diciamo di consentirgli una gestione del credito un po' più semplice permette anche di attuare diciamo con meccanismi premiali con una logica del cashback quelle iniziative diciamo di incentivo all'utilizzo del mass che abbiamo visto negli interventi precedenti sono fondamentali affinché poi queste soluzioni vadano a svilupparsi se no il rischio un po' come anche lì ci raccontava Luca prima si fa un prodotto che è tecnologicamente all'avanguardia ma che non riesce a penetrare il mercato i clienti gli utenti oltre a una certa fetta e quindi di fatto non ha poi quel successo che in qualche modo ci si aspetta di avere un altro elemento che pensiamo di inserire nell'app proprio per connaturarla e per venire incontro diciamo a varie richieste che abbiamo ricevuto è quello delle funzionalità social quindi fare in modo che tutti i clienti tutti diciamo gli utenti siti user chiunque vada ad utilizzare quest'app abbia un modo strutturato di comunicare e tra di loro ma soprattutto con l'azienda quindi quelle che oggi magari sono tante segnalazioni tipicamente ovviamente sono segnalazioni di anomalie di disservizi di problematiche ma comunque in generale i feedback che oggi l'utenza nei vari canali social piuttosto che di comunicazione aziendale che abbiamo ci viene trasmesso un domani faranno un po' parte integrante di quest'app un po' come altre app tipicamente legate diciamo al mondo della navigazione di auto private quindi navigatori di auto che permettono quindi di segnalare situazioni anomalie affinché altri utenti quindi vengano a conoscenza in maniera tempestiva accurata di questi eventi quindi avere una community che in qualche modo rende anche viva e dà maggior valore ai contenuti di quest'app dopodiché ATAC all'interno del Mass4Italy parteciperà anche con un altro ruolo quello di operatore di trasporto perché il finanziamento che è stato riconosciuto dalla città di Roma prevede proprio una quota parte dedicata alla digitalizzazione del TPL quindi qui noi la approcciamo ovviamente con una visione che pone l'utente al centro quindi customer centrica che ha l'obiettivo sostanzialmente di andare a rendere ancora più inclusivo sostenibile ed accessibile l'offerta nei confronti dei nostri clienti l'idea sostanzialmente qual è? Di andare a sperimentare quindi delle soluzioni di accesso che abbiamo chiamato in questo modo only in one place che va a superare un po' la difficoltà che oggi ha l'utente nel momento in cui avendo a disposizione più tipologie di supporto per accedere al TPL abbiamo l'app abbiamo il biglietto abbiamo la carta di credito e quindi abbiamo diversi lettori quello della carta quello del biglietto quello del QR code rende anche difficile non sempre immediatamente comprensibile come validare correttamente il titolo ecco quindi una sperimentazione è quella di andare a utilizzare la tecnologia per semplificare l'esperienza di validazione avendo un unico punto fisico un oggetto che riconosce qualsiasi tipo di supporto venga avvicinato accostato a posto quindi la complessità sarà del sensore del lettore diciamo del device tecnologico il cittadino deve solo preoccuparsi di appoggiare avvicinare il telefono la tessera o la carta di credito in quell'unico punto un altro elemento che va quindi sempre in questa ottica di allargare espandere proprio per includere quante più tipologie di supporto possibile è il riconoscimento della carta di identità elettronica come diciamo alternativa alla tessera trasporti quindi anche questa è una sperimentazione interessante proprio perché permetterebbe a tantissime persone appunto l'esempio di prima il siti user la persona che non è residente magari a Roma e quindi non ne fa un utilizzo frequente del trasporto pubblico e quindi non ha magari un abbonamento però ha una carta di identità elettronica quindi in questo modo verrebbe abilitato a poter accedere alla rete di trasporto piuttosto che il family tap quindi si va in questo caso a superare il limite per cui oggi con una carta di credito può viaggiare solo il possessore quindi tipicamente una famiglia dove solo magari i genitori hanno la carta di credito non possono usare il tap and go per i propri figli domani quindi il titolare della carta potrà utilizzarla anche per per più soggetti e infine sfruttare le diciamo più recenti tecnologie in particolare quella dell'HCE lost card emulation piuttosto che del bluetooth in particolare il bluetooth low energy per andare a superare quelli che sono un po' i limiti fisiologici del biglietto codificato col QR code quindi diciamo la tecnologia ottica che come tutti sappiamo ha proprio dei limiti intrinseci di modalità di acquisizione di distanza di pulizia eccetera la vogliamo superare con una tecnologia quindi diciamo NFC che renderà quindi l'esperienza di validazione ovviamente migliore quindi tutto fatto con l'ottica di rendere più semplice più immediato e più quindi accessibile l'accesso al trasporto da parte degli utenti tutto questo un po' diciamo accompagna quella che per noi è una rivoluzione quindi un nuovo paradigma che partendo dal biglietto dal titolo di viaggio inteso quindi come modo per accedere alla rete di trasporto passa l'identità già oggi noi a Roma siamo in grado di offrire ai nostri clienti il biglietto tramite app piuttosto che tramite sms con una codifica QR code possono già utilizzare le carte di credito hanno già il supporto elettronico tipicamente diciamo l'abbonamento su tessera plastica tra l'altro da proprio qualche giorno abbiamo anche lanciato ufficialmente le nuove biglietterie automatiche quindi le nuove macchine self service che adesso le trovate nelle principali stazioni ma da qui a fine anno saranno presenti diciamo in maniera più diffusa l'obiettivo è averne 100 entro la fine dell'anno che stanno iniziando ad emettere i biglietti cartacei ma col chip elettronico quindi biglietti ricaricabili non più use e getta quindi anche qui una scelta verso la sostenibilità domani potremmo avere anche la CIE potremmo magari avere anche lo speed e quando dove come sarà permesso una normativa anche la biometria dove è la trasformazione che tutti questi diciamo media mezzi che oggi di fatto hanno potremmo dire un biglietto associato un titolo di viaggio associato domani li potremo ricondurre ad un'identità quindi quello che è interessante per me è capire chi è il mio cliente chi è il mio utente ovviamente nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti la privacy in primis affinché lui con qualsiasi suo strumento una volta identificato abbia accesso alla rete quindi non si deve più preoccupare magari di acquistare il titolo prima capire qual è il titolo più idoneo per la sua esperienza di viaggio ma come si dice il just ride semplicemente goditi l'esperienza di viaggio io poi ti identifico e in qualche modo quindi con dei meccanismi di calcolo tariffario diciamo a posteriori del viaggio sono in grado di calcolarti la tariffa magari anche applicare la miglior tariffa quindi anche andare incontro a un'esigenza di diciamo economicità nei confronti dell'utente un tema però secondo me fondamentale da considerare è quello della sostenibilità del mass proprio perché è una rivoluzione e quindi introduce un cambiamento la domanda ovviamente da porsi è come funzionerà ovviamente il tema del business model è ancora un tema aperto sicuramente affinché un mass abbia successo non deve fare in modo che ci siano situazioni diciamo di squilibrio dove alcuni soggetti possono essere avvantaggiati rispetto agli altri e qui il tema ovviamente delle regole chiare della normativa di una governance diciamo importante e presente e fondamentale affinché venga rispettato questo equilibrio quindi sicuramente deve essere una soluzione che consenta a tutti gli operatori che ne faranno parte di avere quindi un ritorno dei propri investimenti dei propri costi quindi che sia sostenibile per il business di queste aziende che partecipano deve essere ovviamente un win anche per i clienti perché l'utente deve trovare diciamo un beneficio un vantaggio una convenienza che non è detto che sia necessariamente economica perché magari può essere la convenienza di minor stress di non doversi preoccupare di cercare il parcheggio dell'auto piuttosto di avere anche la miglior tariffa laddove applicabile c'è anche un tema ovviamente di sostenibilità ambientale quindi l'aspettativa è che l'adozione del MAS porti a dei benefici per l'ambiente per il minor traffico privato per la riduzione dei consumi dell'inquinamento del rumore eccetera e ovviamente anche per le istituzioni perché questa enorme mole di dati opportunamente diciamo acquisita analizzata e quindi valutata consente sicuramente meglio a appunto chi ci governa i policy makers di capire come sta andando il servizio ma soprattutto quali sono le esigenze degli utenti per cui si capirà meglio anche qual è il fabbisogno di mobilità e si potranno adottare le azioni opportune per cercare di venire incontro agli utenti e soddisfarle chiudo un po' con diciamo un concetto chiave che secondo me è importante per rendere il MAS di successo e cioè quello di fare in modo che questa tecnologia queste nuove soluzioni vadano un po' a superare quelli che sono le rigidità o qualche modo i vincoli delle soluzioni di mobilità e trasporto prese ciascuna di esse singolarmente quindi se riusciremo con un servizio integrato con diciamo tutti i benefici che la tecnologia può apportare a rendere l'accesso più semplice all'utente e quindi quello che si diceva all'inizio fare in modo che quel concetto di flessibilità prendo l'auto privata esco quando voglio e arrivo dove voglio senza preoccuparmi di tutto il resto lo posso quindi estendere anche all'intero sistema di mobilità e trasporti allora sicuramente il MAS avrà successo grazie grazie a tutti vi lascio i miei contatti per qualsiasi domanda grazie Francesco io dico adesso che comunque le presentazioni se voi siete d'accordo noi le renderemo disponibili sul nostro sito proprio perché è importante che chi poi ci ha seguito qui ma anche chi non è non ha potuto partecipare possa avere queste presentazioni grazie Francesco di questo intervento grazie quindi alla città di Roma che ha presentato la sua visione di MAS quindi ringrazio Assessore Badanè per l'intervento ringrazio Luca Varello ringrazio Francesca Mendola grazie e a questo punto passerei subito la parola a un'azienda importante che è la Siemens che ci viene a raccontare le scelte tecnologiche per il MAS secondo appunto la visione che ha un'azienda così internazionale così diciamo diffusa in tutto il mondo che è Siemens Siemens e Monza e Mobili vai Filippo buongiorno a tutti buongiorno a tutti è stato viene spesso parlato dell'insieme di necessità di scelte tecnologiche di scelte normative di modelli di business eccetera riguardo alle scelte normative cioè qui in sala e ne abbiamo visto oggi alcuni esempi ci sono molte molte persone che sono molto più in grado di me molto più esperti di me di parlarne io oggi mi vorrei limitare all'aspetto tecnologico presentando alcune delle scelte appunto fatte da noi Siemens Mobility insieme ad alcuni dei nostri clienti in ambito internazionale quindi fuori Italia esperienze maturate tramite alcuni progetti di Mobility as a Service che vorrei condividere mi limiterò logicamente in questi pochi minuti soltanto a toccare alcuni aspetti ma logicamente sarei felice di parlarne molto di più nel corso di questi due giorni una brevissima introduzione di Siemens Mobility il nostro gruppo all'interno della Siemens si occupa e fornisce essenzialmente soluzioni digitali per principalmente aziende di trasporto pubblico operatori ferroviari agenzie di mobilità siamo presenti in Europa e Nord America direi genericamente nel senso nella maggior parte degli stati dell'Europa centro settentrionale direi così come negli Stati Uniti e Canada per darvi una dimensione un'idea della dimensione del nostro business delle nostre esperienze abbiamo poco meno di un centinaio di sistemi installati soprattutto appunto con operatori aziende a livello urbano a livello regionale a livello nazionale qui si vedono alcune app di clienti quindi di aziende di trasporto pubblico abbiamo circa una base di utenza di circa 200 milioni di utenti di download e per esempio l'algoritmo di calcolo che è alla base di molti dei sistemi che abbiamo sviluppato calcola ogni giorno un centinaio oltre 100 milioni di viaggi appunto ogni giorno qui si vedono alcune delle app che sono appunto le interfacce utente un po' più conosciute la Danimarca Dubai San Francisco Berlino eccetera io credo che l'obiettivo di tutti noi qui riuniti sia più o meno lo stesso è stato già detto più volte essenzialmente rendere l'accesso ai servizi di mobilità la possibilità di andare da Ischia a Roma in modo più semplice più comodo più efficiente possibile tenendo logicamente gli occhi aperti verso soluzioni che siano sostenibili che siano inclusive alla Siemens noi lo riassumiamo un po' con il motto plan book and ride e appunto vista dall'utente finale è essenzialmente questa una app con un account logicamente dietro ci sono un sacco di aspetti che devono funzionare devono funzionare tutti insieme sia come è stato detto normativi organizzativi che anche tecnologici quindi anche dal punto di vista strettamente tecnologico la app è soltanto la punta dell'iceberg dietro e sotto ci sono algoritmi ci sono piattaforme di integrazione di cui ho parlato anche in altre presentazioni per cui oggi magari mi limiterò un po' a toccare il tema del del mass visto dall'utente velocemente il nostro percorso verso il mass è praticamente diciamo prima del 2019 abbiamo sviluppato diversi progetti con integrazione di vari operatori di mobilità trasporto pubblico sharing trasporto a chiamata taxi eccetera sempre molto in modo un po' ad hoc diciamo con integrazioni diverse per sistemi diversi nel 2019 ci siamo rimessi al tavolo di lavoro definendo un po' la visione di come una piattaforma tecnologica mass deve funzionare in modo da essere facilmente scalabile quindi cercando di trovare gli aspetti comuni e di rispettare logicamente le differenze dovute alla varietà di servizi disponibili nel 2020 è arrivato un progetto piuttosto interessante con la RMV che è l'associazione essenzialmente degli operatori di trasporto pubblico e tariffario dell'area metropolitana di Francoforte sul meno l'anno scorso sono siamo stati ci siamo giudicati tre progetti sempre piuttosto simili e li vado a introdurre in un secondo con la Renfe in Spagna con un consorzio di operatori di trasporto pubblico che si chiama Rivier in Olanda e anche con l'operatore Deutsche Telekom quindi la Telekom tedesca per la creazione di un sistema di mobility as a service nelle loro aree progetti a cui stiamo lavorando questi progetti direi hanno alcuni aspetti in comune essenzialmente hanno tutti la stessa utilizzano tutti la stessa piattaforma tecnologica hanno caratteristiche anche diverse in quanto per esempio mentre sia la RMV appunto l'associazione di trasporto pubblico degli operatori di trasporto pubblico dell'area metropolitana di Francoforte così come Renfe così come anche la Deutsche Telekom assumono il ruolo di mass integrator e al tempo stesso operatori mass quindi mass operators in Olanda l'atteggiamento diciamo il progetto il concetto e anche il modello business è diverso poiché il Rivier che riunisce appunto gli operatori le aziende TPL di Rotterdam dell'AIA e l'operatore ferroviario olandese forniscono si sono mesi insieme per creare una piattaforma B2B quindi soltanto di integrazione e di fornitura dei servizi di alcuni servizi per operatori mass esterni quindi di terze parti a cui mettono a disposizione un'interfaccia aperta un altro aspetto un po' differente è il fatto che mentre Renfe RMV e Rivier sono essenzialmente tutte aziende legate alla mobilità la Deutsche Telekom è il primo perlomeno a nostra saputa o almeno tra i nostri partner il primo esempio di una entità che si interessa al tema mass non facendo parte diciamo non appartenendo al mondo della mobilità per questi sistemi utilizziamo appunto lo stesso lo stesso back-end diciamo la stessa piattaforma di back-end così come la stessa piattaforma la stessa un front-end customizzato ma di concetto simile appunto scalabile anche per tenere i costi di sviluppo e di manutenzione più bassi possibili dal punto di vista dell'utente diciamo il mass comincia spesso con la pianificazione che può essere un calcolo del percorso oppure vedere la mappa o semplicemente scannerizzare il codice QR di un monopattino questo è un po' il primo passo il diciamo il secondo passo necessario è la parte di book and write quindi di prenotazione di acquisto di pagamento intermodale qui si vedono alcuni screenshot della app di di francoforte che integra per esempio in questo caso un monopattino della tier nella loro app quindi nella app dell'RMV fornendo informazioni necessarie alle varie operazioni prima del diciamo dell'utilizzo del servizio durante l'utilizzo del servizio e anche dopo quello che abbiamo fatto per tier viene fatto anche per gli altri partner che sono il taxi che sono la bicicletta condivisa così come il trasporto pubblico logicamente con l'abilitazione mobile tutti i servizi che possono essere pagati con uno dei vari metodi di pagamento che siano carta di credito come sentivamo prima per l'esempio di Roma siano carta di credito che siano Paypal Google Pay e altri che sono che fanno parte dell'account dell'utente questo un po' per per spiegare come è visto come è visto nel caso di Francoforte e negli altri progetti l'interazione utente con Mobility as a Service riguardo alle scelte tecnologiche essenzialmente noi veniamo diciamo dal calcolo del percorso per cui nel caso del MAS il calcolo del percorso intermodale che quindi utilizza una sequenza di diversi metodi di diversi servizi di trasporto diventa uno un carrello uno shopping car intermodale per quanto riguarda come questo viene viene fatto diciamo dal punto di vista tecnologico dal punto di vista della soluzione essenzialmente ci siamo ci siamo messi ad analizzare i processi i vari processi che si rendono necessari quando si devono integrare diversi servizi eterogenei di mobilità abbiamo identificato quali sono gli elementi comuni ad esempio il pagamento che a volte è diciamo prima del servizio per esempio quando dobbiamo comprare un biglietto dell'autobus oppure dopo il servizio se prendiamo un taxi altri elementi comuni sono per esempio la configurazione o la selezione del servizio e ce ne sono molti altri potrei andare avanti all'infinito abbiamo separato questi questi processi diciamo e sia dal punto di vista della piattaforma di back end che dal punto di vista dell'interfaccia utente proprio per rappresentare questa eterogeneità dei servizi disponibili ci siamo resi conto che è necessario separare il processo di prenotazione dal processo di utilizzo questo perché perché il processo di prenotazione ha un workflow che è un processo di lavoro diciamo che è piuttosto generico con la convalida delle prenotazioni la personalizzazione il pagamento l'assunzione del titolo di viaggio eccetera mentre l'utilizzo se pensiamo alla varietà dei servizi disponibili nelle varie città diciamo del mondo alcuni hanno bisogno di un codice di bluetooth alcuni richiedono di dover fare una foto a un codice QR altri hanno bisogno di un pin tutte queste operazioni devono poter essere incluse nel front end e quindi devono poter essere rappresentate e rappresentabili nel nostro sistema ora anche consapevole del fatto che credo di essere la barriera tra voi il pranzo e la pausa pranzi direi finisco qui con questo voglio soltanto dare un paio di spunti che dimostrano da una parte la complessità di soluzioni tecnologiche per realizzare il MAS dall'altra anche dimostrare come diciamo alcune di queste lessons learned esistono già per cui da queste ne possiamo attingere ringrazio tutti e buon buon pranzo grazie Filippo soprattutto grazie che sei stato nei tempi veramente ti ringrazio e allora io a questo punto chiudo la sessione di questa mattinata dando tutti quanti appuntamento alle due quindi avete un'ora mi raccomando perché c'è sessione di Napoli e il pranzo è servito al piano di sotto vero Leonardo mi sembra quindi ci vediamo fra un'ora qui grazie per chi ha partecipato grazie anche ai datori grazie 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 a tutti